Grande successo nel weekend per la sesta edizione della Kermess la maschera alle terme di Abano. Sabato primo giorno della manifestazione vi sono state modifiche al programma a causa della pioggia con i ballerini ottocenteschi che si sono esibiti all'interno del Tempio del Benessere anziché sull'isola pedonale. Meglio la domenica che si è aperta dalle 9.30 con la sfilata delle numerose maschere venute per l'occasione anche da altri paesi sempre sull'isola pedonale. Nel pomeriggio invece è seguita la premiazione dei vincitori nel parco termale.